Musica Mi presento, sono il sindaco Italo Perfetti del comune di Galliera Veneta e ringrazio la Dita Lago di essere stata la promotrice e sponsor ufficiale della gara ciclistica Giro d'Italia. Sono presenti nel territorio oltre 53 anni e sempre presente anche nell'ambito comunale sulle manifestazioni con i suoi prodotti. Ringrazio proprio Lago di essere nostro sponsor ufficiale e dare testimonianza che sul territorio del comune di Galliera è presente. Grazie a tutti.